Salve, ciao raga, ciao show, me lo devo entrare sulla voc di DS in cui sei per chiedere, sì, devi entrare sul mio discord così i mod appunto possono farti entrare, ciao guppo sono nuovo, tranquillo no problem, grazie MrScopion2269 per il follow, non me l'aspettavo, ci becchiamo dopo appena finisco di lavorare Ah ok, buon lavoro, allora prima facciamo un preambolo perché devo finire anche io di prepararmi che devo ancora avvisare quelli di Instagram che ancora non li abbiamo avvisati, più o meno sapevano l'orario ma non è che lo sapessero poi così tanto bene Ciao Tete Puzzo, quindi anche tu fai Grande Fabio Siete stati appena ricrollati tutti, tutti quei, quelli che siamo insomma Allora Allora, se appena arrivano i mod perché mi sembra di vederli C'è un sacco di gente in live, mi sa che la tolgo la camera Ma no, no, rimettiti, rimettiti, non fare idee Non essere così shy, dai Sono tutta prima gente, tranquillo Immagino Sono tutti, i miei sono tutti toxic free, cioè proprio certificati toxic free Alexa, accenniti, mettiti musica tranquilla Un bel blues magari va Bravo No Alexa, non con corporate, Dio can Scusate Alexa, canale di musica classica Tipo Oddio, ma sei tipo toscano Sì Puoi dirmi la Coca-Cola con la cannuccia corta corta Coca-Cola con la cannuccia corta corta Non lo diciamo bene noi toscani, non è che siamo messi che non lo diciamo bene Bella questa Allora, spec qua Beh io sono l'unico l'extracomunitario della zona Perciò vabbè In che senso? Di dove sei? Io sto facendo arrezzare la password su Twitch per riuscire a fare la sub Oh grazie No io sono svizzero quindi Beh dai, c'ho pareti amici svizzera Che poi mi hanno abbandonato ma ce li ho Ah ok, buono Fear Deep, grazie per il pollo Grazie anche a te Giacomo Falce Ragazzi se volete venire a chiacchierare Sì ha un Discord pieno di gente strana Se volete venire a chiacchierare Questo è un evento in cui tutti si chiacchierano con tutti In teoria c'era un timer Ma pochi mod non ci sono Non si fa un po' alla cazzo di cane Come piace a noi Ecco Gli sbieri non ci sono ragazze Io amo i miei mod Dopotutto sono gente volontaria Sottopagata perché non è pagata per niente Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica Avete fatto molto Non ci sono mai Cos'è che fai? Me l'ho capito Crossplay Non sapete che cos'è? Il cosplay Crossplay Ah sì Il cosplay No quello non so che cos'è mi dispiace Ma che cos'è il cosplay Allora Il cosplay è che quando tu fai il cosplay Di un personaggio del tuo sesto sesso Ok? Il cosplay è quando tu fai un personaggio del sesto Ma non rendendo femmina ma rimanendo maschio Praticamente un drag queen Non proprio Anche perché per anni I drag queen E le bio queen Sono stati visti male Io no Nel senso Cioè se tu Donna Facevi la drag queen Per anni Nella categoria drag Vieni in vista male Perché una donna Bio Cis Non poteva fare la drag queen Cosa che adesso Più o meno può farla Però non si chiama drag queen Ma la chiamo bio queen Cioè letteralmente una donna Se voleva fare la drag queen Doveva andare a fare il drag king Che è letteralmente L'opposto Quindi non poteva fare la drag queen Ma il king Se ti dono soldi diventi la mia Girl Che dovevo fare raga Ho proprio fatto bene Eh lo so Grazie cavolo Mi sono allenata Per spammare gli uvottini Scherzo Ho fatto cross testing E sono l'uscita a petto nudo Però sembravo un uomo Quindi potevo E' stato il giorno più libero Della mia vita Mi sentivo un uomo Mi atteggiavo da un uomo C'erano le vecchie Le vecchie perché avevano 60 anni Che mi dicevano Guarda che bel ragazzetto Mi sono sentito molestato Dalle vecchie Maurizio Merluzzo È una stupenda drag queen Sì veramente Maurizio è la drag queen Più bella del mondo Dell'Italia Però Cioè ci sono molte drag queen Di RuPaul Drag Race Che veramente sono Delle donne bellissime E anche dei ragazzi bellissimi Cioè non mi ricordo Io mi ispiro molto Per i miei cosplay Comunque sia per il mio stile Un po' alternativo A una drag queen Che era Iper nerd Però non mi ricordo più il nome Fa chiede quando sei fregno Come Maurizio Merluzzo Questo è vero Maurizio la mia chat Ti ama Sei bellissimo E bellissima Ecco il pece Che bello Quello che è Che ogni tot Samurai Tu invece Che fai nella vita Parlaci un po' di Che non sei samurai Ma saturai Parlaci un po' di questo Boh non lo saprei Cioè se hai domande specifiche Ti rispondo Ma così Cioè non so parlare liberamente di me Ti piace il merlusso Salve 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 Almeno lei Metta la camma Metta la camma Se no Non vale Lui E' timido E l'ha messa per due Nanno secondi Andrò che l'ha No io Almeno mi avete visto Cosa che tante altre persone Non hanno mai fatto Dai Abcontentatevi Io non ho la camma No Non hai neanche un telefono Dove da mettere No L'ho lanciato Sul muro Prima Ah buono Ma lì c'è Come l'hai lanciato sul muro Sì Perché Perché stavo giocando all'olio Zulissimo No prima mi hai detto Mi hai scritto Oggi è l'evento di Speed Day Chi lo deve fare? Ah no Letteralmente Prima doveva essere Che la gente si parlava Tra di sé A caso Quindi Questo è arrivato Un gruppo di Total Banane Quindi Niente Dovete parlare di voi Ok ok Io comunque di far fare Lo Speed Day A questi due ragazzi Perfetto Zulissi Però Non è proprio Che dovete fidanzarvi È È solo Per parlare È solo Per parlare Tranquillo È solo per parlare Un pochino E fare amicizia Tutto qui Lo so che il mochio È live Quindi Dedichiamo tutti insieme Un per Forza Per forza Io odio le persone che si chiamano Dario È un nome proprio di merda Ciao Ulibbo Ciao Bentornato Buonasera Buonasera a tutti Ciao Ciao Facciamo lo Speed Day Grazie a te Buonasera No raga no Un po' timido E quindi non parlo Come stai? No gli uomini sessuali No No Ma raga Ma qual è il mod Che sta facendo entrare Tutta questa gente? Sembra la sagra della salsiccia Allora Allora Dato che tanto lei è l'unica tipa Io non voglio farlo con Cioè Capito? No no tranquillo Ti posso capire Io pure odio i maschi Perfetto Per dire una cosa E cioè? Io ho 55.000 copi su Brawl Stars Ho tutti i brawler se volete Mi posso insegnare Perfetto Vieni qua tesoro Vai io ho spento la live Ho spento per la live di Arden Io sto cenando e nulla Ah oh Quindi c'è Bye in chat Caspiterina Ci sono gli android in diretta Sì c'è Magicamente C16 Che l'è Eragon Chiaramente C'è Goku Che ovviamente Ulibbo Vegeta Che è un pigreco C16 dove lo vedi? Eragon Eragon è chiaramente C16 Ma Udra che è Eragon Non ti fa male fumare Cioè perché Ti tengo alla tua salute E non vorrei che Magari ti sentissi male Durante La live Cioè Ho paura di prendere Il tuo fumo Passivo Quindi se per favore Sì il fumo passivo Che basta attraverso Un monitor Ma sì ma Per piacere Ma dai Adesso esageriamo Manita Confermo Sono un incendio Allora vai Iniziamo Allora chi inizia Chi è il più piccolo Boh Scegliete voi Cioè per me è indifferente Vai Io sono il più anziano Di tutti mi sa Ok Mi sono appena toccato il cazzo Vai Pierdi Sei il primo Brava adesso è in goia Allora come ti chiami Qual è il tuo vero nome Il mio Arden Beniz Grazie per il fondo Ma il vero Che bello è il tuo vero nome Sì è vero Il mio nome Ma non sei italiana Sì che sono italiana Arden è un nome latino Da latino romano L'italiano di così Non faccio certe cose io Ok Forte Interessante Io mi chiamo Giacomo Bene Piacere Giacomo Sono io Giacomo Che vuoi Giacomo Cerci Mi chiamo io Bello Cazzo Vengo Vengo dalla Sardegna Vicino o lontano da Olbia Giacomo Sì di Giacomo Lontano Lontano Cagliari Ah ok Deveci forza Ma buttate voi Giacomo Voi li ho già buttati fuori Giacomo Tutti mi adorano No Giacomo Guarda quanti miei sostenitori in chat Guardate Allora vai Postò Micchia ci sono più sostenitori tuoi Che i miei Perché i miei guardano e stanno zitti Sostenitori di cazzo Così Scherzo eh Però se vuoi I film se ti interessa Giacomo per favore Zitto Fai parlare però Giacomo Dai che qua c'è lo speed date Allora Scusa Io pianto Stavamo dicendo Allora tu Quanti anni hai? 22 Tu Io ho 22 Paolo Cannone Ma picchiotta Tua madre Scusa Io ho 22 Paolo Cannone Il mio idolo Lo so che non ho mai visto Una live di Paolo Cannone Ti giuro Dovresti allora Così poi forse Potremmo sposarci anche No guarda Ti hai chiesto All'unica persona Il matrimonio All'unica persona Che lo detesta Ti giuro Oh ma non il matrimonio In chiesa A me l'unico matrimonio Che mi piace È una simile Ritro satanico Delle streghe In una polesta Dobbiamo sacrificare Giacomo Dimmi qualcosa tu Dimmi qualcosa tu Allora Mi devi dire Il tuo anime preferito E se mi fa schifo Sei cuori One Piece Beh Non mi fa così tanto schifo E però Mid lane Per la fusta È bello È bello Perché c'ha Doflamingo Crocodile E Smoker Che gli salvano No però One Piece Sì È un bel uomo È giro Anche No Scusa Vabbè Poi Dal riparto Mammellario femminile Sono tanto top E Robin E Boen Perché a me Mi piacciono entrambi Almeno Sì A me anche Tutte le femmine Waifu preferita Di One Piece Aspè non mi ricordo Come si chiama Eh buggy Buggy Che buggy Sì proprio buggy Ah aspetta Zoro 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 Waifu Non lo spando No è che lui Lui è Lui è Pazzetto Voglio vedere ora Lo zoro Che tira fuori le zinne E così almeno Lo passiamo Come waifu Monkey di garpa Monkey di garpa Ora dovrei Cioè io dovrei chiedere Adesso al mio ex Cioè proprio A urlargli Per favore Fammi la risata Di dopplamingo Che la metto su in live Tanto è bella Buono solo per fare questo No Storia anche io l'ho fatto La vostra Qui per Osservare la Scena Un'altra Aspetta ma Assegiatela Assegiatela Esattamente Vai 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 Lasciamo Algo Copelato Aspettate Aspettate Tutti Devo fare Un urlo Al mio ex Oh Ti prego Senza prego Fammi La risata Di dopplamingo Grazie Sono in live Serve per il content Aspetta un secondo Aspetta un secondo Allora Posso dire una cosa Posso dire una cosa Per favore Grazie Allora Io Sta cosa Non lo Ok grazie Per aver detto una cosa Vai possiamo Poterare Perché io ancora Non ho capito Se bisogna mettere Le persone In uno solo Vocale Tutti insieme Allora In teoria Doveva essere Due persone alla volta Poi io non so Chi Quale mod Ha mandato Tutte le persone Allora Che ci sono Io posso Farlo io Sì Ti prego Di merda Mo' mi sposto Aspettate Il vostro Tu Non stronzi Non trattarmi male Per favore Dai ti voglio bene Sono Ti stupro Oh E beh Crossbar Ok Iniziamo prima con Eragon E E Giacomo E Sto qui Sì Dai Giacomo Iniziate Mi do 5 minuti Ma con te O con Arden Chan Ma cosa devo dire io Quello che vuoi Non lo speed È lo speed gate Che vuol dire Che dovete parlare Per 5 minuti Conoscere Vaffanculo Poi potete andarvene Ma posso conoscere a te Mi piacciono un po' di più Le donne un po' più aggressive Non mi serve Grazie Vai Reo Sono admin Nel mio server Da 4 persone Muoviti Dai Sono conoscetevi Grado 25 Su Brawl Stars Ma scusa un secondo Scusa un secondo Ma sbaglio Dovevi farti vedere Quindi accendi quella cavola Di questa telecamera Muoviti Non ce l'ho Mi dispiace Ma non ritiviamo ragazzi Però ti prometto Che il prossimo evento La compro Dai Tranquilli Dai va bene Fallo passare Aster Mia somma Che è carabiniera Per una volta farò Farò parlo di questo speed gate Quindi Eragon Perdonami Andrai un attimo Tra le scimmie Dammi la tua Grazie mille Ok cucciolo Ok cucciolo Vaffanculo va Partiamo adesso Partiamo adesso Dai Inizio prima io Allora Mi chiamo Aster Il mio vero nome non lo dirò Perché non voglio dirlo Bravo Tanto Arden lo conosce Spero Ho 20 anni E abito in Umbria Ok Io mi chiamo Dennis Ho 23 anni E abito in Lombardia Ma non ti chiamavi Giacomo No 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 Giacomo è un altro Giacomo è Di greco Ok E cioè non troppi Giacomo Io mi chiamo Dennis E abito in Lombardia Ok Buono Bene Le mie passioni sono Disegnare Ascoltare musica Soprattutto quello Sono una depressa cronica Ma dettagli Quella non importa Nessuno E Tesoro ci penso io A farti tornare Il sorriso Ho un cane Un cane stupido Tra l'altro Come si chiama i cani stupido? E' importante saperlo Bedu Si chiama Jax Bedu Ci piace Ci piacciono i cani stupidi Ecco E niente C'ho tre canarini Di mia madre Perché mia madre Adora i canarini Sono morti tipo due Però va bene sti cazzi E io padre c'è un sacco di pesci Io invece ho Due pappagalli E un petauro dello zucchero Davvero? Vogliamo vederlo Vogliamo vederlo Vogliamo vederlo Lo devo assolutamente vedere Ora devo vederlo per forza Mostramelo Sì 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 Accendo la cam e te lo mostro Mai Così non c'è anche la cam Hai detto che non ce l'hai Brutto Non si dice queste parole Perdonatemi Scusate persone di twitch Mi discosco da parole bannabili Non lo ho detto io Eccomi eccomi Sto ancora aspettando E' ancora un minuto Minuto extra per i petauro Ecco qua Aspetta Ecco qua Si vede? No Hai detto che c'è la direzione di camera Brutto bus bastardo Non lo vede il petauro Eh è qua Ah aspetta Non si vede Non si vede Non si vede Non si vede bene Chi è entrato? Ho detto di tornare nel gruppo delle scine Bastardo Non è ancora il tuo turno Via Ma non si vede bene? No non si vede il petauro Non lo vede Non si vede bene? Vediamo te Ma noi li petauro Non si vede bene? Sì sì L'abbiamo visto Ma che cazzo Non si vede bene? Ci distracciamo dalle armi Questa è un'arma fintizia È finta Giocattolo Cosplay Comunque sia Se vuoi fare a pesce a pesce più grosso Io ce l'ho più grande Bene Grazie mille per la tua collaborazione Adesso Ma guarda È vera Non è che mi dispi... Guarda che... Non è che mi dispi... Guarda che... Quest'arma qua è vera Sai Va via Va via tu Morte Agli ebrei È stato bello che se ne sia andato con l'impapiazione del pesce Ho ritornato Ho ritornato Ciao Eragon Come stai? Ciao Ecco il secondo Ciao Ecco il secondo Quindi Giacomo Tu sei il famoso Pirdiz Che la chat Visibili Ousanna Sì sì Sono io Sono io Il famoso Pirdiz Allora 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 Sono la moderatrice di questa Di questa collaborazione Allora che sono la collaboratrice di questa live bellissima Direi che adesso avete 5 minuti a disposizione voi due Per iniziare a conoscervi Quindi direi via Vai Facciamolo Facciamolo Qui non c'è un tempo da perdere Allora Non ho molto stile con il ragazzo di prima Però Sono molto invidioso del ragazzo di prima Perché? Perché quel fucile era bellissimo Ero molto bello effettivamente Allora quindi Ti interessa il calcio? No No Però simpatizzo Milan Ok Che schifo La tua squadra mi ha fatto un bel furto l'ultima giornata Raga ma Mi dispiace Però non lo seguo L'abbiamo già fatto prima E quello è il fatto Ah ok Io sono già avanti Lui effettivamente è già avanti Lui ha parlato parecchio Eh sì Io sono l'ostitore speciale di questa sera Un minuto Ok Un minuto e mezzo Quindi No niente Dicevo la tua squadra mi ha fatto una bella Rubata la scorsa giornata Mi dispiace Devo essere sincero Mi dispiace Io lo simpatizzo per i colori Perché c'è Rino Gattuso Che io da piccina lo amavo E sometimes maybe good Sometimes maybe shit Beh tempo scaduto ciao Poverino Eragon Devo andare Ciao Eragon Allora che ne pensi di questi due? Giacomo era simpatico Chi è Eragon era simpatico? Ho detto che è tempo scaduto Te le devi andare porca miseria Via Si sono iscritti Giegen Oh mio dio Muschio Alex Giorgio Giegen Chi è Ho regalato gli abbi